Onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzata dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti nei articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 20 marzo 2014, numero 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese nel testo della Commissione. Il Ministro Boschi ha annunciato che il Governo pone la fiducia sul Decreto-Lavoro. Il testo su cui il Governo ha posto la fiducia è però frutto di una mediazione e modifiche nel corso dell'esame in Commissione. Il risultato non ha soddisfatto tutti e viene interpretato come una concessione alla sinistra del Partito Democratico capitanata sul tema lavoro da Cesare Damiano e Fassina. Il testo, dopo la fiducia della Camera, dovrà passare al Senato dove già si preannunciano nuove modifiche. Ma io credo che i punti di discussione sono noti. L'NCD ha già dichiarato chiaramente quali sono le proprie posizioni, l'aveva fatto nei giorni passati. Io credo che non ci siano distanze incolmabili, nel senso che il decreto, io l'ho già detto, anche per come uscito dalla Commissione alla Camera, non è stato stravolto, ha mantenuto gli elementi di fondo. Orelio Damiano, il compromesso sul Decreto-Lavoro vi soddisfa? Come commenta anche questa fiducia che sta da Renzi? Per quanto riguarda il testo uscito dalla Commissione, crediamo che sia un testo di grande equilibrio che dà alle imprese ulteriore buona flessibilità senza negare i diritti dei lavoratori. In particolare, la parte relativa all'apprendistato corregge, a nostro avviso, un errore del Governo perché non prevedere l'apprendistato con formazione vuol dire negare la natura stessa dell'apprendistato. Orelio Fassina, come vede il Jobs Act di Poletti e Renzi? Il decreto legge è arrivato in Commissione, è stato molto migliorato, sia per quanto riguarda la parte sul contratto a tempo determinato, sia per quanto riguarda la parte sull'apprendistato. È ovviamente un compromesso, non è il decreto che avremmo fatto come PD se fossimo stati al Governo da soli. Siamo al Governo col centro-destra, è un provvedimento che riflette la necessità di fare un compromesso e ora spero che si possa approvare rapidamente. Noi difendiamo il testo Renzi, noi abbiamo sempre chiesto di ritornare al testo Renzi-Poletti. Il Ministro Poletti ha rifatto un'ennesima mediazione che noi abbiamo accettato e il Partito Democratico invece l'ha rifiutata. Quindi c'è un problema di difendere il Governo Renzi dal Partito Democratico o da una parte di esso, da quella parte conservatrice che soprattutto sul lavoro si esprime. Il decreto politico che andava bene nella sua versione originaria viene cambiato nel senso della rigidità perché la sinistra comunista del PD vuole rigidità obbedendo alla CGL della Camusso. Ma siamo pazzi. Ma che storie ci racconta Renzi? Le storie del correre-correre, del creare posti di lavoro, del fare posti di lavoro per i giovani e poi subisce la CGL come se fosse un Letta qualsiasi o un Monti qualsiasi. Non se ne può più. È successo che purtroppo NCD e la sinistra del PD si sono opposte al miglioramento necessario di un testo che è uscito male dalla Commissione. Purtroppo è stata un'opposizione di carattere ideologico che noi non abbiamo condiviso. Noi siamo a favore di provvedimenti che migliorino il mercato del lavoro italiano. Oggi eravamo vicini a una mediazione importante che purtroppo si è impantanata. Naturalmente negheremo la fiducia al Governo come abbiamo fatto fin dalla sua nascita ma al di là di questo il nostro giudizio è molto negativo anche per la scelta di mettere la fiducia su un decreto così importante sul quale abbiamo espresso fin dal primo momento dubbi fortissimi. È un decreto che aumenta la precarietà del lavoro. E sul decreto lavoro il Poletti Renzi si ufficializza all'epoca degli schiavi moderni e questo non va bene. È un bacio di giuda verso i lavoratori. Come annunciato il Presidente Renzi ha dato seguito alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica che aveva deciso di declassificare gli atti su una serie di eventi che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese che adesso se voi mi consentite vi cito senza ripeterle in memoria. Piazza Fontena, Gioia e Tauro nel 70, Peteano nel 72, Questù di Milano nel 73, Piazza della Loggia a Brescia nel 74, Italicus 74, Ustica 80, Stazione di Bologna 80, Rapido 904 del 1984. Tutto ciò consentirà, come ovvio, di avere una ricostruzione storica della vicenda del nostro Paese. Siamo ormai un Paese maturo che può affrontare questi elementi con la forza di una coscienza collettiva.